Non tutti sanno quello che avviene nelle congregazioni dei testimoni di Geoa qualora un adepto dovesse commettere quello che loro chiamano peccato. Ben presto viene chiamato a comparire davanti a un comitato giudiziario per essere interrogato. Se egli non ritratta e non si pente del suo comportamento verrà disassociato. Non c'è bisogno che venga violato un principio biblico per subire un comitato giudiziario. Spesso lo si subisce per aver semplicemente fumato una sigaretta, aversi fatto una trasfusione di sangue per salvare la propria vita, aver salutato o manciato con un altro disassociato, aver votato alle elezioni politiche, aver festeggiato il compleanno, ecc. La Bibbia attace sui comitati giudiziari nella primitiva chiesa cristiana. Su questo argomento ho pubblicato dei video, mentre in questo video verrà soprattutto analizzato l'atteggiamento di Gesù verso i peccatori. Vediamolo nel Vangelo di Luca, capitolo 5, versetti da 29 a 32. Esso dice «E Levi imbandì per lui nella sua casa un grande banchetto, e c'era una grande folla di esattori di tasse e altri che giacevano con loro al pasto». Allora i farisei e i loro scrivi mormoravano dicendo ai suoi discepoli «Perché mangiate e bevete con gli esattori di tasse e con i peccatori?». Rispondendo Gesù disse loro «I sani non hanno bisogno del medico, ma quelli che stanno male, sì. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a pentimento». Da notare che Gesù disse che era venuto a chiamare i peccatori. Quindi i peccatori, invece di essere schivati o ostracizzati, come fanno i testimoni di Geoa, devono essere avvicinati e aiutati. Per quale ragione Gesù racconta questa parabola? Per trarre quale insegnamento? Quello di imitare la sua misericordia verso i peccatori? O per imitare gli iscrivi e i farisei che mormoravano perché Gesù mangiava con loro? La risposta non è difficile. Ma i testimoni di Geoa vanno oltre i semplici mormorii. Chi dovesse mangiare con un disassociato, dopo alcune ammunizioni, verrà egli stesso disassociato. Assurdo! Esaminiamo anche Luca, capitolo 15, versetti da 1 a 7. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. Ma i farisei e gli iscrivi mormoravano dicendo «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola «Chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova?» E trovatela tutto allegro, se la mette sulle spalle e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro «Rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento». Anche in questa parabola i scribbi e i farisei mormoravano perché Gesù accoglieva i peccatori e mangiava con loro. Gesù con questa parabola gli fece capire che dovevano prendere l'iniziativa per andare a cercare la pecora finché non l'avessero trovata. Non dovevano aspettare che la pecora andasse da loro come fanno i geovisti. A questo punto il geovista dirà «Sì, però la pecora della parabola viene chiamata un peccatore che si ravvede. Possiamo riaccettare nella nostra organizzazione solo colui che si ravvede». Ma come potrebbe un anziano sapere se un disassociato si ravvedrà o meno se non lo va a cercare? Ecco perché Gesù nella parabola disse di andare a cercare la pecora smarrita finché non la trovi. Solo così avrebbe potuto sapere se la pecora smarrita si sarebbe ravveduta della sua trasgressione. Ovviamente la ricerca andava fatta mentre la pecora era smarrita. Gesù non disse di andare a cercare i ravveduti. Questi non avevano bisogno di essere ricercati. Comunque gli anziani e solo gli anziani perché a motivo dell'ostracismo per tutti gli altri testimoni di Geoa è proibito ricercarli possono decidere di visitare i disassociati una volta all'anno e non più spesso per sapere se desiderano rientrare nella setta. Sono però esclusi tutti quelli che loro chiamano apostati cioè quelli che disapprovano l'operato della Watchtower. Questi non verranno mai visitati. Tutti gli altri potrebbero rientrare nella setta solo se accettano le loro condizioni. Quali sono? Prima di tutto devono pentirsi di cosa? Ad esempio chi si è fatto una trasfusione di sangue deve pentirsi di essersela fatta anche se ciò gli avrebbe potuto costare la vita. Oppure chi è stato disassociato perché frequentava un familiare disassociato. Questi dovrà pentirsi di aver frequentato ad esempio il figlio la propria madre il nonno lo zio o il nipote che erano stati disassociati. Ovviamente dovrà necessariamente evitarli in futuro. Potrebbe sembrare una barzelletta ma vi assicuro che questo è veramente quello che succede nella setta geovista. A questo punto anche se il disassociato accetta le loro condizioni non è finita qui. Egli deve fare domanda di riassociazione per iscritto. Non verrà riassociato sulla base della semplice richiesta verbale. Questa è la burocrazia geovista. Non si rendono conto che sono ben lontani dagli insegnamenti di Gesù. Egli trattava con espressioni di misericordia i peccatori e gli esattori di tasse mangiando insieme a loro a volte anche auto invitandosi. Usò misericordia anche verso le prostitute. Ciò viene mostrato dalle scritture che passano in sovraimpressione. in sovraimpressione. In sovraimpressione. In sovraimpressione. che i peccatori non vanno stracizzati ma vanno piuttosto aiutati viene mostrato nella lettera di Giacomo capitolo 5 versetti da 14 a 15 Da notare il modo corretto di agire degli anziani della chiesa primitiva quando un fratello gli comunicava di essere spiritualmente malato. Gli anziani si recavano da lui per pregare per lui ungendolo con il simbolico olio in modo da ristabilirlo e se aveva commesso dei peccati gli sarebbero stati perdonati. Qui la scrittura ammette che il malato spirituale poteva anche essere responsabile di vari peccati. In quel caso bastava la preghiera della fede degli anziani per essere perdonato. In nessun luogo viene menzionato il comitato giudiziario come fanno i testimoni di Geova. Purtroppo la dirigenza geovista ha ignorato la purezza della disposizione divina e ha inventato delle regole arbitrarie e inflessibili verso i peccatori come lo stracismo che le scritture non insegnano. con il fine di demolire invece di sanare allontanandosi dagli insegnamenti amorevoli del nostro Signore Gesù Cristo. Iscrivitiiti a